Non devi andare a baciare le ragazze così a cazzo di cane Molto, molto felice Allora, il protesto per agliarmi sulla fede Certo Ecco, questo mi verrà a fare con gli affiscai Mica peraltro Sono contento Adesso noi ricominciamo con questa storia Perché prende e ti spieghi Non puoi farlo qui, mi dispiace Con i dei Ti obbligano a fare cose Ti tengono stretti addobbi Sono simpatica Non è meno Se tu, dal momento che preghi Io non è che sto dicendo che non ci credo Attenzione Io ci credo perché esistono, perché è palese Perché la storia parla Ci sono